Allora cosa devo dire? Che mi è fatto un grande piacere ricevere tutti questi messaggi da parte degli amici di Filippo, che il primo che mi è arrivato è stato, che tra l'altro non sapevo niente, mi ha meravigliato perché ha detto è merito di Filippo, Filippo ci sta aiutando e poi accendendo la televisione ho capito il perché, come mai mi scrivono così e poi mio marito mi ha detto guarda che questo generale dedica questa cosa a Filippo ho detto mamma mia, così è, poi è stata una cosa inaspettata una cosa inaspettata, una cosa, certo lui stava mettendo quando è successa la cosa stava mettendo una micro spia su questo monte, ecco per cui sapevamo che stavano cercando questo personaggio, ma poi ha lavorato anche per cercare Provenzano ha seguito il processo di Riina però queste cose io le ho sapute dagli amici perché lui anche quando veniva a casa tutto bene mamma, va tutto bene, cioè non ha mai dato alito a pensare ma magari ecco e poi quando io gli dicevo, ma te ma quando vai in pensione dove vai? starai in Sicilia, no mamma tu tieni questo qui perché questo è il nostro nido speriamo che sia veramente così, che sia il suo nido grazie grazie grazie